il paese dei balocchi solo su climbing radio ciao a tutti i bulderisti e bulderiste eccoci tornati l'estate è passata fin troppo rapidamente ma speriamo che sia passata tirando le prese sui vostri blocchi sui vostri massi sulle vostre vie su quel cazzo che volete insomma di parete ma l'importante è che l'abbiate tirate sempre al massimo eccoci tornati con il nostro paese dei balocchi qui su climbing radio come sempre sono l'albertaccia e pronti per iniziare un nuovo anno insieme nella nostra duplice modalità video in cui mi vedete vedrete quello anche di cui ho da parlarvi e audio per chi ci segue anche sul canale di spotify del paese dei balocchi allora cosa avremo quest'anno da per riprendere nostra trasmissione cercheremo riserviamo sempre qualche novità cercheremo appunto di ritornare a parlare come sempre ogni tanto della cronaca del bulder quello che faremo oggi un po per riepilogare quanto è successo in questa estate 2024 poi avremo ovviamente sempre degli ospiti adesso non vi dico altro su chi sto già contattando per le prossime puntate per cercare appunto di far sempre sentire la voce anche di bulderisti illustri o comunque di chi ha da dire la sua in relazione al bulder e poi dopo avremo anche delle puntate che che dedicherò in parte completamente alla storia del del bulder visto che finalmente dopo tre anni di lavoro a breve uscirà anche il mio libro di storia del bulder quindi sarà un piacere poterne parlare direttamente un po più nel dettaglio proprio anche qua al paese dei balocchi bene arriviamo all'argomento di oggi come vi dicevo inevitabilmente non poteva che essere il una sorta di riepilogo di quello che è successo in in questa estate al top del bulder maschile e femminile un'estate è stata un pochettino soprattutto livello maschile un po sottotono non è che ci siano state delle delle salite strabilianti per quanto chiaramente ovviamente di salite dure ce ne sono state e anche a rocklands che chiaramente insieme a rocky mountain national park insieme alle aree in quota del ticino gottardo system pass silvretta e così via silvretta in austria ovviamente così via diciamo c'è stato un po in tutte queste aree un pochettino di non troppo clamore non troppe salite però iniziamo senza indugi e iniziamo condividendo quello che è il nostro sito di riferimento che curo personalmente nella sezione bulder che è ovviamente upclimbing.com per appunto vedere alcune delle delle salite di cui vi stavo accennando partiamo subito proprio in al top con alcune salite femminili di di alto livello che ci portano in parte a rocklands ma anche in un'altra area celebre come magic wood iniziamo proprio da qua iniziamo da magic wood dove vedete in azione qui una una climber giapponese che si chiama mei kotake un nome sicuramente molto noto chi segue anche le competizioni mei che si trovava appunto in ticino perché giusto qualche giorno prima si trovava invece a qualche centinaio di chilometri di distanza e a brianson dove ha vinto la tappa di coppa del mondo lead dopodiché già che c'era giustamente essendo giapponese ha deciso di deviare da brianson approfittarne per visitare una delle più celebri aree del boulder estivo che è appunto magic wood e qui la vediamo impegnata su quella che è stata la sua rapida realizzazione qualcuno l'avrà già riconosciuta questa è la celebre new baseline un 8b più che è un riferimento e un simbolo dell'area di magic wood liberato da bern zangler ed è forse la linea che ha reso nota magic wood al mondo ancora nei primi anni 2000 quando zangler la liberò e appunto era valuto 8c inizialmente uno dei primissimi nella storia del boulder e appunto poi dopo successivamente anche per modifica accidentario quant'altro alle prese comunque no e così via si è stabilizzato su un 8b più che attualmente uno forse l'8b più più ripetuto in ambito femminile a cui mai si aggiunge ora appunto per il suo come riportato qua primo 8b più e quindi un un celebre risultato anche su roccia per questa eccezionale garista però non è stata la sola non è stata la sola e appunto gli altri grandi risultati che alla fine sono i più forse probabilmente più rilevanti di di quest'estate hanno come protagonista le ragazze e finalmente ci spostiamo a rocklands dove a rocklands a essere stata particolarmente ispirata in quest'estate 2024 è micaela kirsch una micaela kirsch che è un nome ben noto nel boulder femminile ad altissimi livelli una ragazza statunitense che già di 8b più ne ha chiusi diversi oltre a essere arrivata anche al 9 a più in in falesia quindi una delle boulderiste climber più forte al mondo anche per per polivalenza intendendo boulder più falesia e è arrivata in forma strepitosa a rocklands nonostante pochi giorni prima si fosse rotta mi pare il mignolo poi subito il mignolo un dito mi pare della mano comunque è un qualcosa di particolarmente drastico per un climber eppure in qualche modo si è riuscita a riprendere alla grande ed è arrivata appunto a rocklands dove oltre a stampare mi pare 3 8 a flash ha anche stampato un appunto un 8b più con una linea celebre ultra celebre che è amandla una linea di fred nicole qua appunto vediamo su diciamo a far vedere anche il video di micaela direttamente dal suo profilo instagram un video che qua ci mostra come in questo caso una sua caduta particolarmente in alto però ci mostra quella che è la linea di amandla una linea su micro liste con questo passaggio finale che è praticamente il metodo originale con cui nicole liberò questa questa celebre linea ancora penso fine anni 90 mi pare no forse in questa risale già gli anni 2000 perdonate comunque in cui liberò questa celebre linea e che in questo con questo metodo viene valutato 8b più nonostante invece recentemente sono stati trovati nuovi metodi di uscita proprio mi sembra con un aggancio di punto di tallone fuori sul bordo che evita questo lancio che portano amandla ad essere invece valutata dalla maggior parte dei climber come 8b micaela proprio voluta rimanere fedele alla linea originale di di nicole e grazie a questa salita appunto si è giudicata un un altro 8b più in in carriera non è la sola statunitense che ha spezzato a rocklands anche altre si sono mosse sull'8b anche appunto dimenticavo la stessa chi ha liberato ha ripetuto scusate un altro paio di 8b sempre o forse più anche sempre a rocklands in quest'estate oltre ad amandla ma un'altra grandissima statunitense una delle più grandi di sempre che è stata attiva a rocklands con un grandissimo risultato è isabel faus isabel faus che attualmente insieme alex puccio è la bulderista che vanta il maggior numero di 8b più saliti in carriera ne ha ben oltre la dozzina non ha raggiunto ancora il traguardo dell'8c e qua a rocklands ha avuto modo quest'estate di salire anche una linea di cui ha realizzato la prima femminile e è mirta questa linea su liste liberata da paul robinson mi sembra di ricordare di cui sempre mi sembra ricordare sia esattamente badim timono fa realizzato lo scorso anno un'eccezionale salita flash quindi una degli explora più duri come difficoltà nell'ambito del bulder e ora questa notevole salita per quanto riguarda micaela di questa linea in forte sfrapiombo su megaliste tutte da tirare quindi proprio una partenza cioè un'estate che è stata davvero ricca di risultati in ambito femminile ripeto questi sono i principali che abbiamo avuto e sono anche quelli che bene o male hanno portato le donne un pochino più in alto rispetto agli uomini in quest'estate che non hanno diciamo spiccato particolarmente di risultati interessanti a rocklands soprattutto ci sono stati qualche 8c di riferimento diverse ripetizioni di monkey wedding il celebre 8c liberato da nicole uno di questo davvero dei primi di rocklands così come il una delle ottime salite bellissime salite sono quelle del nostro simone tentori che oltre all'8b della sua compagna sia la fabbri simone tentori che in questo suo viaggio a rocklands in cui ha tentato the finish line il celebre 8c di naluka taival una delle linee più belle al mondo è riuscito tra un tentativo e l'altro anche ad aggiudicarsi non uno non due bensì tre 8b flash quindi un risultato sicuramente di altissimo livello ma sul fatto che simone si tenesse notevolmente non c'è nulla da dire e nulla di nuovo bene dopo queste news interrompiamo prima di parlare di altre salite in questo caso tutte al maschile un episodio curioso che è successo proprio a rocklands che comunque permette di fare delle considerazioni anche delle riflessioni sull'impatto dei climber anche se probabilmente in questo caso non c'è nessuna causa umana e vi ricondivido giusto per farvi capire di che cosa si tratta questa è l'immagine di quello che è rimasto di de-etchling un masso dovete immaginare che questo sasso qua con tutta questa base prima di rompersi giaceva in praticamente questa parte in orizzontale questo è in leggero strapiombo qua vedete ancora le tracce di magnesite questo era uno degli otto a più celebri più ripetuti e più fotografati di rocklands che un bel giorno in questa estate fortunatamente non quando gente ci stava scalando sopra o gente ci stava passando sotto si è ribaltato rispetto alla piattaforma di roccia su cui praticamente giaceva effettivamente un po' in bilico e è crollato distruggendosi quindi un blocco tra i più storici di rocklands che è andato perso chiaramente questo fatto è probabilmente del tutto occidentale naturale nel senso che non penso che ci sia stato un problema di impatto legato al fatto che l'eccessiva frequentazione dell'area o altri motivi legati all'impatto umano possano aver causato questo ribaltamento però in ogni caso il fatto che ci sia nell'immaginare ad esempio un massimo di chissà quanti tonnellate che si ribalta e si distrugga ci sia un esempio della fragilità comunque di cui specialmente le aree di aree in aria come quella di rocklands sono soggette ma ovviamente non solo specialmente a fronte del numero di persone che continuano a passare da queste aree come riporto nell'articolo che ho scritto il problema dell'impatto è notevole e ha già creato degli episodi celebri a Magic Wood l'impatto delle persone si è manifestato nella deturpazione completa del bosco e del sottobosco che un tempo era davvero magico e ora non lo è più oltre che della roccia così come a Fontainebleau sempre restando in ambito chiamiamolo geologico ci sono alcune aree che sono interdette e altre lo rischiano di diventare proprio perché essendo una foresta basata su una roccia tutta di tipo arenaria molto morbida il continuo ed essendoci diverse colline specialmente nella foria del Truapignon che è dove ci sono tanti settori celebri come quello del Cue de Chien del 952 e così via e diversi altri il continuo accesso di persone su queste colline specialmente ha aumentato drasticamente il fenomeno della erosione dei terreni e conseguentemente con il rischio di crolli dei massi o comunque di crolli di queste di cedimenti di queste colline e chiaramente sono un qualcosa che il semplice impatto camminando dalle persone può generare un altro caso tipico è quello di meschia dove l'eccessiva e un po' selvaggia frequentazione delle persone ancora inizio millennio ha portato poi dopo alla deturpazione completa del bosco bosco di cui il proprietario viveva per le castagne e quant'altro e che di conseguenza ha portato alla successiva chiusura dell'area che è stato un celebro un celebre uno dei primi celebri esempi di area interdetta a causa del dell'impatto umano quindi anche questo caso di diechling se anche ripeto non può essere ricondotto a cause umane però è iconico nel rappresentare comunque la fragilità di questo ambiente e la necessità ancora di più di stare attenti nel momento in cui andiamo a frequentarli in centinaia migliaia decine di migliaia di persone se le sommiamo negli anni come può essere ad esempio in una rocklands in una magic wood in una fontainebleau e così via. Fatta questa parentesi come dire di impatto di attenzione alla etica anche di approccio all'ambiente ritorniamo a parlare di exploit ritorniamo a parlare delle delle grandi salite che abbiamo visto in quest'estate e tra queste ricondividendo la nostra il nostro sito troviamo per quanto riguarda difficoltà di 8 c più in ambito maschile ben tre salite in ordine diciamo di andando dalla più recente a quella meno recente sempre in ambito di quest'estate una bella salita che è l'unica stranamente l'unica di altissimo livello che proviene dal Rocky Mountain National Park e in particolare dall'area del Mount Evans del Lake Lincoln sul Mount Evans dove normalmente d'estate abbiamo sempre visto tantissime salite quest'estate l'unica che si è verificata e che è la più celebre linea del del Lincoln Lake è quella di Insomniac ad opera di Noah Wheeler questa linea che rappresenta la connessione tra the wheel of volvo un 8 b più 8 c e we can build di un altro 8 b più su questo masso di cui qua vediamo l'uscita ma praticamente sotto è un grandissimo immenso tetto una salita di di Noah Wheeler che lo porta a chiudere quindi un altro 8 c più dopo sleepwalker e che io qua ho riportato la sesta salita di questa di questa linea in realtà ho scoperto successivamente a questa quindi molto molto recentemente visto che la salita risale al 3 settembre della news anche che oltre a Drew Ruana che è il primo salitore Sean Rabutu, Daniel Woods, Jimmy Webb e Austin Purdy è stata ripetuta anche da un altro americano che ora non ricordo da Keenan Takahashi e anche da Andy Lamb come riportato in uno degli ultimi video che abbiamo pubblicato proprio a inizio settimana sempre qua su Upclimbing quindi salite che non sono state diffuse che sono passate un po' così in sottofondo e Noah Wheeler comunque l'autore di questa salita da 8 c più l'unica ripeto che proviene quest'estate dal Rocky Mountain National Park. Un'altra salita con un altro americano protagonista ci porta invece finalmente in in Giappone dico finalmente perché in Giappone sono presenti tantissime King Line non solo quelle del leggendario Daiko Yamada uno dei bulgeristi più forti di sempre ma anche quelle ad esempio di Ryu Ichimurai, Shinichiro Nomura tantissimi tantissime linee liberate da questi fortissimi giapponesi che hanno un livello assurdo. Basti pensare a Floating, basti pensare ad esempio a United come linee che sono appunto alcuni dei simboli del bulger moderno di altissimo livello linee di 8 c più che si trovano in Giappone e un Giappone che finora o comunque negli ultimi anni ha visto ben poche visite da parte dei climber occidentali. A parte Kinan Takashi che comunque penso che sia parzialmente di origini come il nome dice cioè è di padre giapponese e Iketi Lamb con lui l'unico altro che ha visitato e ripetuto nelle riferimento è Florian Venges che ha ripetuto il tedesco che ha ripetuto Floating qualche mese fa. E ora finalmente arriva anche un climber del calibro di Sean Rabutu, uno Sean Rabutu che ha ripetuto United, United che è una delle linee celebri del monte Mitsugaki, una linea liberata da Ryu Ichimurai come partenza sita Decided, l'8B+, che ha visto sia la salita eccezionale di Katie Lamb in ambito femminile sia l'ancor più eccezionale salita flash da parte di Tomohana Rasaki che quella volta l'anno che va su roccia tra una gara e l'altra è capace di salire tranquillamente 8B+, flash cioè il top attuale del boulder. United appunto quindi una trasferta per Sean che si aggiudica questa bella linea di Ryu Ichimurai realizzando nella prima salita a distanza di diversi anni. Vediamo che se qua ha riportato l'anno però mi pare almeno 5 anni, no ecco 2019 quindi esattamente 5 anni da quando la liberò appunto Ryu Ichimurai. Andiamo avanti e parliamo di un'altra salita che vale l'8C+, che è quella di Fuck the System. Ci spostiamo questa volta dal Giappone a Fionnè, quindi un'area anche essa celebre del Vallese, quindi Svizzera, che è diventata nell'ultimo paio d'anni, famosissima da sempre perché qua da sempre ci sono delle linee di riferimento come Foundation Sage 8C che il Gram liberò se ben ricordo nel 2013, quindi un'area comunque famosa dove i top climber sono già passati, però un'area che negli ultimi paio di anni ha conosciuto un grande sviluppo, una grande frequentazione da parte di top climber e nel 2021 proprio lo Sean Rabutu che abbiamo appena menzionato vi liberò anche Fuck the System, esattamente un'estensione in partenza a Foundation Sage, questo tetto di cui qua vediamo l'immagine con il video di quest'ultima salita che invece porta il nome di Sam Weir appunto, anche lui americano, appunto una Fuck the System che era un vecchio progetto di Dave Graham che lascio proprio vecchio vecchio, che lascio lì, che poi dopo appunto Rabutu riuscì a liberare, lo stesso Dave Graham a distanza di anni ci ritorna sopra riuscì a effettuare nella prima ripetizione, poi seguito da Clement Lechaptois e dal nostro Pietro Vidi, a cui ora si aggiunge appunto per la quinta salita Sam Weir. Quindi queste sono le salite diciamo da 8 CPU di cui vi volevo parlare che si sono verificate quest'estate che rappresentano un po' il top. Concludiamo con le ultime, questa nostra carrellata nel boulder di questi ultimi due mesi, con una news per certi versi quasi tutta italiana, che però ha come protagonista Alamondra. Adesso ci spieghiamo subito. In realtà protagonista anche Pietro Vidi, ma non si riferisce a quest'estate. Qui vedete proprio in questa bella foto di Michel Piccorruaz Pietro provare e cercare di tenere il passaggio finale di un suo progetto, un progetto che su questo tetto in Valdaone, quindi questa è la prima diciamo caratteristica italiana, che aggiungeva all'8B di Grizzly preesistente un'estensione in partenza che era un progetto durissimo. Chi segue Pietro sui social l'ha visto, diciamo, provare questa, mettere dei post in cui provava questa linea. Bene, in realtà questa linea Pietro l'ha liberata. L'ha liberata in primavera, insomma, in una data non meglio specificata, e l'ha chiamata FlowState e soprattutto l'ha valutata 8CPU. Pietro che l'8CPU l'ha raggiunto, appunto abbiamo detto prima di Fuck the System, che anche lui aveva salito, questo è sicuramente però con il suo 8CPU la linea più dura della Valdaone, oltre che chiaramente una delle linee più dure al momento di taglia, se non altro tra quelle che sono state ufficialmente gradate. Di Pietro, appunto, in questo sito di Pietro non abbiamo saputo nulla, e l'abbiamo saputo appunto perché ho menzionato Ondra, proprio perché Adam Ondra in questi giorni ha visitato la Valdaone e anche lui è riuscito ad effettuare la prima ripetizione di questa linea di vidi. Ed è stato lui a dire che questa linea è stata liberata da Pietro, che poi ha pubblicato il giorno dopo, due giorni dopo, anche lui un post qua sotto riportato in cui parla di questa linea. Ondra conferma l'8CPU qualora si utilizzasse il metodo di Pietro, quindi che consiste non più che il metodo, il modo con cui chi ha le dimensioni di Pietro o chi se non altro da un altro punto di vista non è alto come Ondra è costretto a fare, cioè fare questo lancio finale, o meglio trattenere questa sbandierata finale più che un lancio durissima, che invece chi è particolarmente alto riesce a evitare mantenendo il piede appunto sulla roccia. A parere di Ondra, con le misure di Pietro e di tutti coloro che hanno un'altezza confrontabile, è sicuramente 8C+, per chi è alto come lui può invece essere valutabile come 8C, cosa normalissima che può capitare nel boulder, chiaramente da un punto di vista di morfologia e di lunghezze che si possono avere. Quindi siamo contentissimi di sapere che comunque Pietro ha liberato in Valdaone questa linea eccezionale e appunto come ha poi annunciato e chi vuole può seguirlo appunto e vedere i suoi commenti nel post Instagram a cui potete ricollegarvi sempre partendo da Upclimbing. Terminiamo questa nostra puntata di oggi, abbiamo menzionato le salite flash di Simone Tentori, menzioniamo anche Max Milne, questo ragazzo britannico che già avevamo menzionato perché aveva flashato D-Ace, il mitico 8B di Stun Age, quindi uno dei blocchi più storici della UK, dell'Inghilterra, e tuttavia questo ragazzo appunto che ama salire i blocchi al primo giro ha fatto un ulteriore step e nell'area di Calcari Badger Cove dove è particolarmente attivo Wilbosi con linee estremamente dure per quanto spesso non particolarmente belle, comunque a parte questo diciamo che qui Max è riuscito a salire al primo giro Be Wilderness, quindi una linea di Tan Varian, un 8B+, appunto entrando anche lui nel cerchio ancora ristrettissimo di climber e boulderisti che possono vantare una tal risultato, ricordiamo che salire un blocco flash perché appunto si sta avvicinando al boulder consiste sostanzialmente nel salirlo al primo giro, cioè guardarlo, toccare le prese, vedere, farsi un'idea dei metodi però non far nessun altro tipo di tentativo se non appunto il primo e quando si riesce a farlo al primo giro si parla di blocchi flash e l'attuale top raggiunto in ambito maschile è 8B+, appunto come ha salito da Max e da non più di un'altra dozzina di climber finora nella storia. Bene, anche oggi quindi siamo arrivati alla fine di questa nuova puntata del Paese dei Balocchi come tutte le precedenti pre-estive e con questa puntata inauguriamo anche questo anno scolastico, anno balocchesco 2024-2025 in cui saremo insieme appunto e anche con gli ospiti che avremo nelle prossime puntate. Io vi ringrazio per essere sempre stati qui mi raccomando se avete qualunque domanda potete scrivere se è una domanda inerente a uno di queste puntate potete scrivere direttamente nei commenti di YouTube dove troverete questo video o altrimenti potete scrivere ai canali Climbing Radio se avete qualche domanda di qualche tematica o qualcosa che volete che venga trattata in una delle successive trasmissioni sempre disponibile appunto a rispondere alle vostre domande a fare quello che posso per appunto parlare sempre di Boulder. Detto questo ci vediamo allora alla prossima settimana sempre qui su Climbing Radio sempre con il Boulder a Il Paese dei Balocchi Ciao a tutti!